Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima commissione, riunione a San Giustino, ha incontrato i sindaci dell'Alto Tevere su prospettive e sviluppo del territorio. David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, si è riunita presso la Sala del Consiglio del Comune di San Giustino per un incontro con i sindaci del territorio per parlare di prospettive e sviluppo dell'Alto Tevere. Alla riunione a cui hanno partecipato i consiglieri Maria Grazia Carbonari, Movimento 5 Stelle, Carla Casciari e Marco Vinicio Guasticchi, PD e Valerio Mancini, Lega Nord, oltre all'assessore regionale Fernanda Cecchini, hanno preso la parola anche i sindaci di San Giustino, Citerna, Monte Santa Maria in Tiberina, Lisciano Niccone e un assessore di città di Castello. Dai loro interventi è emerso come le maggiori problematiche del territorio sono quelle legate alle infrastrutture, dall'adeguamento della E45 alla realizzazione della E78, dalle difficoltà dell'FCU alla manutenzione delle strade provinciali dissestate fino al completamento dei lavori sulla diga di Montedoglio. Ma hanno ricordato anche la mancanza di una politica integrata per lo sviluppo del turismo dell'Alto Tevere e hanno sottolineato le preoccupazioni per le prospettive dell'agricoltura tanto per le culture intensive come il tabacco quanto per quelle più particolari come le castagne. Inoltre è stato detto bisogna lavorare per evitare lo spopolamento dei comuni montani mantenendo i servizi sul territorio. Nell'introdurre i lavori il presidente Smacchi ha ricordato come questa sia la quarta tappa di un giro che la prima commissione sta facendo nella regione. Dopo Castiglion del Lago, Montecchio e Gubbio è la volta di San Giustino. Qui la situazione è migliore di altre zone per la tenuta occupazionale e economica visto che stiamo parlando di un territorio all'avanguardia che spesso ha fatto da locomotiva per altre parti dell'Umbria. Non dobbiamo però nasconderci le problematiche di questa lunga crisi e le difficoltà legate alle infrastrutture. I vertici della società GEPA fin a Palazzo Cesaroni per un'audizione nel comitato di monitoraggio in merito ad attività e programmi. Il servizio. Il comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, presieduto da Raffaele Nevi, ha ricevuto presidente e direttore di GEPA fin Salvatore Santucci e Marco Tili. Durante l'incontro Santucci e Tili hanno spiegato che dopo il 2008 il sistema delle garanzie si è molto modificato e le banche tendono a chiedere garanzie in più. Negli ultimi anni è stato anche necessario uno sforzo per innovare tutta la strumentazione finanziaria. GEPA fin ha rilasciato garanzie su 2.500 aziende, sperimenta strumenti innovativi di intervento e si è attivata per superare la bassa patrimonializzazione delle imprese Umbre, un punto di debolezza dell'economia regionale. I rappresentanti di GEPA fin hanno fatto sapere di aver presentato domanda alla Banca d'Italia per diventare intermediario finanziario vigilato. Questo hanno spiegato ci permetterà di fare interventi diretti e di rilasciare garanzie, un processo complesso che porterà in anche nuovi vincoli e controlli. Chiudendo l'incontro, Nevi ha evidenziato che GEPA a fine svolge un ruolo importante in relazione al tema del credito, del rapporto con le banche e della capacità di rispondere alle esigenze delle imprese che hanno bisogno, ha detto Nevi, di sostegno per svilupparsi, progredire e fare investimenti. In terza commissione si è parlato del centro islamico in costruzione ad Umbertide, l'audizione del sindaco Locchi. Vediamo. Audizione in terza commissione presieduta da Tilio Solinas del sindaco di Umbertide Marco Locchi in merito alla costruzione del centro islamico. L'incontro è scaturito dalla mozione dei consiglieri Mancini e Fiorini della Lega Nord che chiedeva un intervento della giunta regionale nei confronti del governo nazionale ai fini di una moratoria della costruzione e apertura di nuovi centri islamici e moschee. Discussa in aula e rinviata in commissione, Locchi ha spiegato che i musulmani stimati nel territorio di Umbertide sono circa 2000 e che nel corso degli anni si sono inseriti nel tessuto sociale, scolastico e produttivo. Nel 2011 ha detto è stato avviato il processo di realizzazione del centro culturale islamico e tutte le procedure sono state seguite in modo corretto. La struttura ha una superficie utile di circa 800 metri, 400 a piano terra per la preghiera, uno spazio più piccolo di un campo da basket. Al primo piano ci saranno spazi per le attività culturali del centro, corsi di lingua e altro. Il costo complessivo viene stimato sopra il milione di euro, proveniente da donazioni di fedeli e da raccolte fondi nei centri islamici esistenti altrove. Il sindaco ha quindi spiegato che il centro non potrà essere qualificato come luogo di culto, non esistendo un accordo tra lo Stato italiano e la rappresentanza della religione islamica. Valerio Mancini della Lega Nord ha ribadito che l'obiettivo è quello di arrivare a una moratoria della costruzione di centri islamici e moschee finché non viene stilato un accordo tra lo Stato italiano e i rappresentanti della religione islamica. Claudio Ricci, della lista Ricci Presidente, ha fatto notare l'importanza di fare in modo che la moschea sia connessa con il tessuto sociale cittadino. Per Marco Vinicio Guasticchi, del Partito Democratico, si tratta di una moschea che avrà un impatto devastante su una piccola comunità. Si tratterebbe della settima struttura islamica d'Italia, ha detto, in una città come Umbertide che ha già una serie di criticità enormi. Per Sergio De Vincenzi, della lista Ricci Presidente, si tratta di un progetto che va oltre ogni possibile limite. Sono scelte, ha detto, che manifestano l'incapacità di prevedere quali conseguenze ci potranno essere. E secondo Silvano Rometti, socialisti e riformisti, infine è importante un forte rapporto con la prefettura per mettere in campo misure che garantiscano la maggiore sicurezza della comunità. Presa d'atto del Comitato di monitoraggio della non attuazione della legge regionale sulle acque minerali. Vediamo il servizio. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale ha approvato a maggioranza la delibera con cui viene dichiarata non attuata la legge regionale sulla ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali. Per il Presidente del Comitato, Raffaele Nevi, dal report emerge che in otto anni non è stato adottato il piano regionale per l'individuazione, l'utilizzo e la valorizzazione delle sorgenti termali. Inoltre, il regolamento attuativo non è stato mai emanato e la quota del 20% del canone pagato dalle aziende che sfruttano le acque minerali umbre non è stato corrisposto ai comuni su cui insorgono le sorgenti. Criticità e proposte per il futuro dell'azienda ospedaliera di Terni. La terza commissione si è riunita in esterna nella sala conferenze del nosocomio ternano. Ce ne parla Davide Mariotti Bianchi. La terza commissione consigliare presieduta da Attilio Solinas si è riunita presso l'ospedale Santa Maria di Terni per parlare delle criticità e delle proposte per il futuro dell'azienda ospedaliera Ternana. Dagli interventi dei vertici dell'ospedale presenti all'audizione, emerso come il lavoro portato avanti negli ultimi anni, abbia consentito di raggiungere l'equilibrio di bilancio con l'incremento delle attività e buoni risultati per quanto riguarda gli indicatori di efficienza, la mobilità attiva, la riduzione dei tempi di pagamento dei debitori. Il direttore sanitario Maurizio Dalmaso ha sottolineato che l'azienda è solida dal punto di vista finanziario e di competenze professionali. Sta partendo il lavoro di ristrutturazione con importanti interventi di edilizia sanitaria. Stiamo lavorando su spostamenti e accorpamenti dei reparti, ma anche sull'innovazione organizzativa e sulla valorizzazione del personale. L'obiettivo è quello di far lavorare i dipartimenti in maniera integrata, partendo dalle punte di eccellenza presenti e dalle buone capacità di performance sulle medie prestazioni. Il presidente Solinas ha sottolineato come questa riunione sia stata la prima di una serie di edizioni che faremo con tutte le aziende sanitarie dell'Umbria per ascoltare le direzioni e i professionisti che lavorano nelle strutture, così da capire le prospettive gestionali e come intendono attuare le linee programmatiche della regione. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e buona settimana a tutti. Arrivederci.